Il principio anche di portare un pianoforte in Ruanda e di lasciarlo poi lì è perché dei ragazzi lo stanno suonando quel pianoforte Bella raga nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement Questo vuol dire nuove storie da ascoltare ma anche per interagire Se vi va come sempre sotto i commenti potete farci sapere quello che pensate voi In ogni caso se ancora non l'avete fatto e vi va iscrivetevi a questo canale Io sono Gianluca Gazzoli e a questo tavolo, a questi microfoni spesso e volentieri ci capita di sentire delle storie speciali Racconti, approfondimenti, di tutto e di più e sono molto contento di quello che sta venendo fuori Sono molto contento che anche tutto ciò vi piaccia, anzi tra l'altro ne approfitto se volete seguire il basement anche sugli altri canali Oltre che i miei Gianluca Gazzoli potete farlo Qua torna a me Fra, fai comparire delle cose tipo le icone Alla grande e tutto questo in realtà per dire che anche oggi c'è un ospite speciale Sono molto contento e questo voi direte Gianlu, lo dici sempre che sei contento quando ci sono gli ospiti No però davvero, è vero, il basement non sarebbe autentico e quindi questa cosa non andrebbe bene Ma sono molto contento perché è un ospite di cui sono molto curioso di sapere la storia Abbiamo pranzato insieme prima di registrare e in realtà io ti voglio chiedere un sacco di cose Però le voglio tenere per quando effettivamente così c'è la spontaneità, c'è tutta la verità di passare dal basement E oggi dal basement è passato Pietro Morello Eccoci, yeah! Il tuo pubblico, questo è il tuo pubblico Pietro che si fa sentire la ola È incredibile, guarda possiamo fare un sacco di cose tipo questo, entusiasmo per il tuo arrivo, musica Ma soprattutto Pietro Morello, ti hanno mai chiamato Moreno Morello come l'inviato di Stuscia Notizia? Mi hanno chiamato in tanti di quei modi a causa del Morello di cognome che ormai guarda Spero che mi chiamino in quei modi lì L'altra cosa che mi hai detto prima cos'era Pietro Pietrello? No Moreno Pietrello Moreno Pietrello forse Batte tutti Forse è quella che batte tutti, grazie mille davvero per essere passato di qui In realtà noi siamo reduci da una serata che abbiamo vissuto insieme ieri Anche perché ci ha messo insieme Allora io ti sento nominare da amici, abbiamo tanti amici in comune da un po' di tempo Ovviamente avevo visto anche quello che stavi combinando e parlando poi con questi amici Tante volte dicevo allora a me piacerebbe invitare Pietro a fare un passo dal basement Perché secondo me ha delle cose interessanti da raccontare E confrontandoci dicevo però ragazzi sono tanti, non so la conversazione è passata dal basement Di solito è bella lunga, vai tranquillo perché Pietro ha una caterva di cose da raccontare Adesso ho una responsabilità enorme Abbiamo creato dell'hype, dell'aspettativa Però su questo insomma non avevo dubbi La serata di ieri adesso io non so quando andrà in onda online in realtà questa puntata Però è una serata molto bella perché in questo momento E secondo me poi è quello che ha fatto scattare anche questo passo dal basement Siamo stati uniti da una persona, delle persone, una realtà La serata di ieri era quella di Ocapia che è una onlus alla quale siamo entrambi affezionati Tu perché hai fatto recentemente un lavoro con loro molto bello Molto importante, molto bello Che è un documentario Un documentario, abbiamo realizzato un documentario in Ruanda L'anno scorso a novembre E prendendo un pianoforte, mettendolo sul pick up e portandolo in giro per tutto Ruanda Ma chi non fa questa cosa voglio dire tutti i giorni della sua vita E lo stesso Capio ha portato me in Africa per la prima volta nel 2015 Proprio in Ruanda In un viaggio che è ovviamente uno di quei viaggi che ti cambia davvero il modo un po' di vedere la vita Io ho fatto dei video, un video particolare che tra l'altro è ancora online sul mio canale YouTube Andate a vederlo, è un video un po' lungo Ma perché è un po' parte che parliamo del 2015 Quindi anche i formati, le cose che si facevano erano un po' diverse Però il racconto secondo me ne vale la pena Quindi ringrazio tra l'altro Dennis Treu Dietro le camere Si dice anche CEO e founder per le Onlus No, si può dire CEO e founder Si dice, si dice Dio Capio che in questo momento è aiuto regia Perché l'altra cosa bella di passare dal basement Passavi di qua, eravamo a pranzo Oh ti va di fermare? Pam, accendiamo una telecamera Infatti non mi hai invitato al basement Non mi hai invitato Ma sapevo che venivi Sapevo che venivi E quindi insomma poi ti ho comunque invitato a chiacchierare Beh, la serata di ieri è come ti è sembrata tra l'altro? No, molto bella Eravamo a Palazzo Reale, raga Pensate Dietro il Duomo Dietro il Duomo Posto incredibile Con la madonnina lassù Sì sì Una luce pazzesca Un sacco di gente insomma per la proiezione dell'anteprima di questo documentario E come spesso accade a questi eventi Cioè c'è emozione sia per chi li fa che per chi li segue Assolutamente E quindi ieri ad esempio era tangibile questa cosa Te che effetto ha fatto rivedere immagini ad esempio di un video Che magari ti capiterà anche quei video che fai tu Però insomma un video proiettato in quel posto Tu conta che io ho fatto un video su quell'esperienza del documentario Che è su YouTube Però era il mio video che ho montato io Quindi tutto un altro mondo Io non avevo ancora visto il documentario Tutt'ora non ho visto il documentario finito Ed è una cosa pazzesca perché è tutto nato da un'idea Da una chiacchiera Qual è un sogno grande? Portare un pianoforte in Africa E suonarlo dappertutto E quando la rendi concreta hai fatto il primo grande passo Per cui le emozioni ti sovrastano Quando lo vedi proiettato Montato con le musica che hai scritto È una cosa Allora ieri avrei dovuto anche suonare Dopo ho suonato dopo al pubblico Ho raccontato di alcuni bambini Ho raccontato delle storie Ma l'ho fatto con dentro un'emozione Che non mi è mai capitata Solitamente sai salgo sul palco Un po' freddo comunque Sono emozionato Ma lì avrei visto il documentario Ci arrivi dal flusso dopo Sono arrivato che avevo Magli zigomi da quanto stavo sorridendo Si percepisce sempre Poi questi credo siano i fattori Che facciano la differenza Per sottolineare Poi quanto è importante a volte E quanto è potente quello che facciamo Quando poi lo mettiamo anche online Se si fanno anche delle cose fatte bene Tu ne sei la dimostrazione Perché insomma quello che fai Arriva potente a un sacco di persone Che in qualche modo poi magari Prendono ispirazione E magari non vanno in Africa Però fanno delle cose belle O buone Quindi questa è una figata Sono molto contento Perché ad esempio ieri sera Uno dei protagonisti del video Mi ha confessato Che tutto questo progetto Da parte sua era partito Quando aveva visto questo video Di cui vi parlavo prima Che avevo girato in Ruanda Nel 2015 E che in qualche modo Dopo aver visto quel video Ha subito chiamato Dennis E dieci anni dopo Eravamo lì tutti ieri sera Quindi dieci anni No dieci no però Quasi Quasi dieci anni dopo Eravamo tutti lì Quindi è veramente potente E quando hai iniziato A fare quello che fai tu? Ma io ho iniziato molto per caso Ho iniziato a diciassette anni E ho iniziato in un canile A fare il volontariato Sai quello proprio di Quasi di conseguenza Sì Non so tanto cosa fare Voglio impegnarmi un pochino E lì conobbi Un centro di accoglienza In cui ho iniziato a lavorare Con i bambini Con la musica Ed è stato tutto Un insieme di contatti Per cui ho conosciuto Un missionario Che mi raccontava Delle sue missioni umanitarie A me sembrava Indiana Jones Voglio farlo anch'io Comunque era un ragazzino E sono partito Per la mia prima missione In Romania Al confine con l'Ucraina E lì Ho capito Cos'è una missione umanitaria E il mio cervello Ha fatto uno switch Era una missione Un po' Un po' esagerata Per la prima volta Infatti ho fatto un errore Perché sono andato Completamente impreparato Ok Però lì ho capito Quanto ti danno i bambini E ho cominciato Piano piano A entrare in quell'ottica Che mi hanno sempre raccontato I miei genitori Che sono due insegnanti Dell'infanzia proprio E quindi lì ho detto Ok No I bambini I bambini sono E saranno la mia vita E piano piano Ho cominciato a costruire L'idea di continuare Di continuare Con varie missioni umanitarie Di continuare negli ospedali E di aprire i progetti Negli ospedali Però è tutto stato un Quanto mi danno I bambini È un discorso che faccio spesso Dell'altruismo Non so cosa pensi tu Ma secondo me L'altruismo non esiste No Io mi chiedo sempre Quando ci sono situazioni Tipo la tua Tipo anche quella di Dennis O chi comunque Come dire Da gran parte Della propria vita Anche per questo tipo Di situazioni È Quanto lo fai per gli altri E quanto lo fai per te Certo Ma Con un po' di onestà intellettuale Io lo faccio Per me Consapevole Che dà agli altri Nel senso che È ovvio che quando passi Giornate Nottate con i bambini Quando passi il tuo tempo In ospedale Dai a loro Anche perché Il mio percorso in particolare È quello della musicoterapia Che sta arrivando a essere La musicoterapia E quindi C'è poi un risultato pratico Nei loro confronti Ma Quello che ti torna indietro Non è equiparabile I bambini Mi hanno insegnato a vivere Mi hanno insegnato La felicità Mi hanno insegnato La filosofia Della felicità E Quindi Sì è fatto per me È fatto per me Con Tutta la positività Che si porta dietro Certo Allora facciamo un piccolo passo indietro Perché ovviamente Di solito Chi guarda dei video Dei contenuti online Su youtube Eccetera Di solito Sa già Se io ho scritto Oggi Pietro Morello è passato dal basement Le persone sanno chi sei Che cosa fai Ma invece una figata Di passare dal basement È che tante persone scoprono Magari persone sulla fiducia Di quello che raccontiamo Tu che cosa fai Cioè quando uno ti chiede A parte i tuoi genitori Che è sempre l'esempio Che si dice Cosa dice a tua mamma Che fai Qual è il tuo lavoro Di cosa ti occupi Ma allora Ci sono un po' I due fronti Il fronte dei social Che è quello Di cui sono Innamorato E soprattutto A cui sono più grato Perché è quello Che mi ha fatto Un pochino nascere Nel poter raccontare Che è il mio più grande obiettivo Di vita Raccontare Raccontare alle persone E far capire Quello che io provo Nella speranza Che possano provarne Solo il 10% E i social sono diventati Nasco da tiktok Durante la pandemia Con video sulla musica Quindi tutto è successo Principalmente durante la pandemia Durante la pandemia Io suono il pianoforte Però tu già facevi Le cose che facevi Le missioni Quindi tu già facevi tutto Ma prima non lo sapeva nessuno Cominciavo a raccontarlo Un pochino Ma ovviamente Con il pubblico Che si crea intorno Agli amici Non era una roba nazionale Assolutamente E tiktok è nato Con un aspetto ludico Solo ludico Non raccontavo Delle missioni Non raccontavo Dei bambini Era un Facciamo giochi Con la musica Costruiamo strumenti musicali Con le zucchine Con le carote Facciamo suonare i mattoni E lì è nato Il Che chi voglio dire Non ha mai fatto I mattoni No ma io mi divertivo tantissimo Perché era quello Che facevo con i bambini Cioè creiamo musica Con la spazzatura Certo E semplicemente l'ho rifatto Tu per questa roba Hai studiato O è una cosa Che arriva dall'istinto Quello di Della musica No io non ho studiato Ho studiato musica Per conto mio Sì Autodidatta Sì sì Mi sono messo sui libri Però il sistema Del giocare con la musica Per i bambini È un percorso Soggio pedagogico Lo sto studiando adesso Ok Cioè nel senso che Comunque arriva da qualcosa Di nato Io lì studiavo Comunicazione interculturale E adesso sto studiando Musicoterapia per l'infanzia E per il recupero dal trauma Quindi c'è un percorso dietro Che però è ancora In via di costruzione Sì sì Sta crescendo insieme a te Sì assolutamente Quindi prima però è nato Da diciamo Un po' istinto Sì e dai miei genitori Che comunque Sono pedagogisti Lavorano in quello Non mi hanno mai insegnato Proprio coi libri Prendendo appunto Ma l'hai vissuto L'ho vissuto Ho vissuto Tutto il percorso Esatto Dell'infanzia E poi l'altro percorso È quello dei bambini Ok Che adesso per fortuna Sono due percorsi Che si intrecciano Perché i social Ti permettono di Perché appunto Quindi durante la pandemia Tu hai iniziato a caricare Questi video Dove facevi giocare Cioè questi giochi Con la musica Esatto E sono esplosi sostanzialmente A livello di Sono andati tanto Ma anche perché Durante la pandemia Eravamo tutti lì Molti sono esplosi E da TikTok È iniziato ovviamente Tutto il percorso Anche su Instagram Che è una conseguenza E grazie a Yaki Grazie a Yaki Dale Che è venuto con me Per la sua prima missione umanitaria In Kenya Ho iniziato su YouTube Quindi la prima sua insieme Dell'anno scorso Eravate insieme Sì Era la sua prima missione umanitaria Ci siamo beccati a pranzo Mi ha detto Voglio farla anch'io Ok E gli disse Guarda tra due settimane Parto in Kenya Scherzando E gli ho detto Vengo Stavo scherzando È venuto davvero E lì mi ha convinto A iniziare anche su YouTube A raccontare un pochino Ok Questi sono un pochino I due percorsi Che si sommano Cioè comunque Sono due canali Che non sono Cioè sono nati Cioè è nata prima La missione umanitaria È nata prima Quello che facevi Quando hai fatto La tua prima esperienza Quindi quella che t'avevi Quando A 18 anni 18 era quella dell'Ucraina Sì Ho iniziato lì a confine Che in realtà Ero basato in Romania A Baia Mare Sui monti Dove c'è il confine E poi ho iniziato in ospedale Sempre durante la pandemia Perché non potevo andare in missione Giustamente E lì ho cominciato ad andare Nei reparti oncologici Portando un pianoforte E poi portando in realtà La chitarra Facendo la musicoterapia Di racconto Per cui con i bambini Si raccontano delle storie Che poi vanno messe in musica E lì i bambini Tirano fuori tantissimo Ma tirano fuori delle storie Con delle metafore Che in confronto Il Vangelo è vuoto Cioè Ce n'è una che ti ricordi In particolare O qualcosa Tante Ma L'esempio che faccio più spesso Che ormai ho detto e ridetto Perché è quello più forte È quello di cui Ti accennavo a pranzo Di Beatrice Ok Beatrice è questa bambina Che aveva nove anni E Ci sono due storie In particolare sue La prima Lei L'aveva appena rasato i capelli Perché Li stava perdendo Per la chemio E Beatrice Ha cominciato a disegnarsi Bionda Con i capelli lisci e biondi E lei Prima di tagliarsi i capelli Aveva i capelli ricci e scuri E io le chiesi Bea ma Perché ti disegni Con i capelli biondi È una bugia Non si dicono le bugie E lei mi ha detto Scusa Già mi sono caduti tutti i capelli Tanto vale che mi crescano biondi E lì Ok Ti prego insegnami E quella Quell'ispirazione Che hanno i bambini Ma noi Raccontiamo delle piastrine Che tutti i bambini Si sentono in continuazione Di dire Non puoi andare a casa Perché mancano le 70.000 piastrine E non ci arrivi E allora sai quante volte Abbiamo fatto Pana e piastrine Mortadella Perché i bambini Si mangiano le piastrine E' un modo di raccontare Quello dei bambini Talmente genuino Che Non puoi non stare lì Veramente abbracciarli E cercare di imparare qualcosa Per osmosi Però a volte capita Che i bambini dicano Anche qualcosa Di brutto Con una semplicità tale Che Che noi rimaniamo spiazzati Assolutamente Perché noi Adulti grandi Faremo mille giri di parole Per dire qualcosa Anche di negativo Ti è capitato Di rimanere Spiazzato Da quel punto di vista Assolutamente I bambini Hanno una consapevolezza Che noi non crediamo Ci sia Mi è capitato Con un bambino In una baraccopoli Nel nord del Kenya Si chiama Korogocio Una baraccopoli In cui lavoro Con un'altra associazione Che è un neocapio Ma che è una mano Per un sorriso E lì lavoriamo Al confine Con una discarica La discarica più grande Dell'Africa centrale E questo bambino Perse il papà Qualche mese prima Ucciso durante Una lotta Tra i pichi pichi Che sono le motorette Che portano in giro Ed è stata Praticamente Un'esecuzione African style E lui l'ha visto E lo racconta Con una Una freddezza Tale per cui Un bambino Non dovrebbe raccontare Questa cosa Così Però è lì Che nasce Il principio Di questo bambino Che adesso Lui vuole fare L'insegnante Ma non ha mai detto Da grande voglio essere L'insegnante Lui dice Da grande voglio essere Pietro e Paola Che Paola è La presidentessa Dell'associazione E lo dice Con quella Quella spinta Che arriva proprio Da quell'esperienza Ma i bambini Raccontano tutto così Tutto con questa Semplicità Questa trasparenza Chiaro Anche sulle malattie Ma tantissimo Beatrice L'altro grande esempio E io corro Io corro di Beatrice È la mia filosofia Di vita Che mi ha fatto capire Che la felicità È una scelta La felicità È una scelta Punto Non è una conseguenza Di quello che si fa E Beatrice Me l'ha spiegato Involontariamente Un giorno Venendo da me In sedia a rotelle Con il cerottino A forma di farfalle La flebo Attaccata al trespolo E mi disse Pietro io Ho pensato Sono una bambina Sì Questo torna Io corro E lì sei in difficoltà A dire Amore Come te lo spiego È complicato No no Come è complicato Io sono una bambina Io corro Cioè i vecchi stanno nel letto I bambini corrono Cacchio è vero E lei mi ha detto Io oggi non posso correre con le gambe Ovviamente Se no mi si strappa tutto Però Però io Io corro Qui E lei ho detto No Cacchio è vero E lei ti ha esemplificato La malattia Una leucemia Che Che porta sempre più in basso Nel suo caso Con il Ma basta correre E noi siamo Dei power bank di felicità Se lo vogliamo Ed è lì che è il principio La felicità è una scelta E una volta che la scegli Ti si appiccica addosso E puoi spaccare un muro Allora Io condivido questo pensiero L'ho detto anche Tante volte E ovviamente Quando poi mi capita Anche di parlarne Poi ci sono persone Che non la pensano così Qual è il Cosa ti fa pensare Cosa cosa ti smuove Tanto sul concetto Della Della felicità è una scelta Il fatto che Grazie ai bambini L'ho vista applicata Come cosa Perché è facile dirlo Nella mia vita No Io comunque Sono figlio di due insegnanti Ho vissuto bene La mia vita Non mi è mai mancato nulla E quindi la felicità è una scelta Ha detto da me Vale quanto vale Ma quando Un bambino O di una baraccotta Popoli in Ruanda Che arriva A giocare a scacchi Come alternativa di vita Perché deve Dimenticarsi Che non sta mangiando Ti dice Ma sai che la felicità È una figata pazzesca È la scelta È la scelta Nonostante tutto Quello che ha visto Nonostante tutto Quello che ha capito Con una difficoltà Pazzesca nel rendersi contento Ma i bambini Ce l'hanno talmente dentro Che ti viene da dire Ok si può fare Si può scegliere E si distingue Dall'allegria Cioè l'allegria È quella cosa Per cui esplodi Qualcosa di figo Sei allegro La tristezza è uguale All'allegria Vai su E vai giù La felicità È come se stesse in mezzo Non corrisponde All'allegria La felicità È un sentimento di base Io mi sono fatto fare Un'altra teoria Su questa cosa qui Che è diventato Un po' il mio Cioè quando mi dicono Ma tu vuoi essere felice E invece Ho sempre pensato Che la serenità Fosse superiore alla felicità Io credo che la felicità Sia un picco Sempre Che c'è E non c'è Che nei momenti c'è Ma non può essere mai costante E quindi se devi scegliere La serenità invece È quella cosa Un po' più Più costante Interiore Che tu riesci poi A utilizzare Per essere Per essere felice E in qualche modo Comunque si sposa In qualche modo Però in entrambi i concetti La differenza La fa l'attitudine Lo fa l'atteggiamento Una cosa che spesso Ad esempio Mi viene Tra virgolette Contestato Insomma quando si parla Io Utilizzo spesso No magari dico Le mie teorie Sul perché Insomma secondo me Bisogna avere Un certo tipo di atteggiamento Eccetera eccetera Magari mi si dice Beh ma sì Ma tu Sei così Perché Fai questo Questo Quest'altro E invece io credo Di fare questo Questo Quest'altro Perché sono così Quindi questa credo sia Una grande cosa Che può Che può dare Un segnale Anche alle persone Ma poi anche il fatto che Allora La distinzione che io trovo Principale che sta dentro Le tue parole È il fatto che Noi siamo tristi Cioè ci capitano Dei momenti tristi Ogni tanto ti viene Il muso lungo Un po' di arrabbiatura Non è quell'utopia Del sei sempre felice Ovunque È quel Guardi sempre La felicità Cioè anche se capita Qualcosa di triste Che ti porta un attimo giù La prospettiva è Ah ma c'è il bello Però è lì Ci posso arrivare E non ti capita mai Di portarti invece Dato che questi sono lavori Che non hanno Saracinesche O altro Cioè di portarti poi Nella tua vita Molti dei traumi Che vedi in giro Allora Capitano moltissime cose Di impatto Negative Che si vedono E che ti restano Dentro il cuore E quindi capita ogni tanto Di avere gli incubi Di avere Il ritorno Dei bambini Che non ce l'hanno fatta Dei bambini Che hai perso Dei bambini Che hai visto Sì Sì Però Non vanno mai A sovrastare È sempre un bilanciamento Impositivo Nei confronti Delle cose belle Che ti capitano Anche perché Spesso e volentieri I bambini Comunque restano Con Beatrice Abbiamo composto Uno dei miei brani Preferiti Al pianoforte E anche se lei Non l'ha mai sentito Avrei tanto voluto Che lo sentisse Comunque Nella mia testa c'è L'ha sentito Ed è rimasta Come grande Concetto di vita Quindi per quanto Ogni tanto faccia Un pochino male Ripensarci Volgere Tutto quello Che ti può portare giù Per portarti ancora più su È il principio Più figo del mondo Però ad esempio Il caso di Beatrice Prima ne parlavamo Anche ieri sera Durante la serata Quando ero sul palco Poi sei salito tu E hai raccontato Comunque hai citato Beatrice È successa questa cosa Ne parlavamo anche prima Incredibile Tu mi dicevi Ogni volta che io parlo Di Beatrice Inizia a piovere Che è una roba Surreale E ieri Mentre eravamo sul palco E tu hai iniziato Parare di Beatrice Hai iniziato a piovere Ma guarda Io Non credo Che partiamo Da questo presupposto Io Ho letto il Vangelo Per interesse Ma non credo Non è una cosa Che sento mia E non credo Neanche in questo In questa forma Di energia Così forte È solo una cosa Che ci smonta Il cervello Ne parlavamo con Dennis Cavolo Pari di Beatrice E piove Certo Sarà una coincidenza Sicuramente Però è una cosa Che dici Ma Mi ha fatto Capponare la pelle Ma ad esempio Con questa Beatrice Per citarne una Che hai citato tante volte Si è creato Un rapporto speciale Hai un tatuaggio Anche a lei A lei dedicato Cosa succede in te Quando poi Purtroppo La vita Prende il suo Il sopravvento Cioè il resto Anzi Sicuramente è un percorso Quanto è durato Tra l'altro Per dire il rapporto con lei Nove mesi Più o meno Ok È un percorso È un percorso Che si Che si deve fare Io cito Beatrice Ma perché ormai È diventata più Un simbolo È come se non fosse più reale Nessuno sa niente Di Beatrice In realtà Non sa neanche Nessuno sa Se si chiama veramente Beatrice È un simbolo È un simbolo di vita Che porta la mia filosofia Di bambini ce ne sono tantissimi C'è Samuel C'è Gaia C'è Gilda Tantissimi bambini Che mi hanno lasciato Tanto E credo che mi lasceranno Ancora tanto Se capita Che alcuni bambini Non ce la facciano In realtà In realtà Ti dà ancora più La dimostrazione Del secondo mio pilasto Grande Cioè che la felicità Esiste solo se la condividi E quando capitano queste cose Ti viene ancora più voglia Di condividerla Di raccontarlo Io voglio essere da te A dirtelo E voglio andare da qualcun altro Io te lo devo dire Che la felicità è una figata Che anche io prenditela E mi dà ancora più prova di questo Perché se non lo avvolgi in positivo Ti ci affoghi Quindi Così È uno stimolo Però cosa fai? Come fai a non affezionarti? No no Ti affezioni Eh infatti Ti affezioni È un percorso È un percorso interiore Che bisogna fare È un po' come i medici No? I dottori In qualche modo Poi purtroppo Magari dei pazienti Si affezionano E poi a maggior ragione Senti dei sensi di colpa Se succede qualcosa Che non va Per dare un'idea Quali sono le missioni umanitarie Che hai fatto fino adesso? Cioè che cosa Per dare un'idea un po' Di quello che hai combinato Fino ad oggi Nonostante tu sia così giovane In Kenya appunto Con una mano per un sorriso Stiamo facendo un lavoro Secondo me Veramente interessante Creato da una mano per un sorriso Loro costruirono due scuole Già prima che io entrassi A far parte dell'associazione E adesso stiamo costruendo Un centro polifunzionale Sempre nello slam di Corogocio Ed è un centro Due piani strafigo Che darà l'opportunità Ai bambini Di avere un'alternativa E di poter studiare computer Di poter studiare scacchi Musica Fare dei percorsi di riabilitazione Per la disabilità È tutto un super super progettone Poi con Okapia Appunto Sul Rwanda Sul Congo C'è la costruzione Del nuovo asilo nido Adesso torneremo giù In missione con Dennis Tra tre settimane Un poco più Scendiamo E adesso C'è un grande progetto In futuro Tutto segreto Tutto mio nel cuore Che si realizzerà Qual è la cosa più forte A cui ti sei trovato davanti? Nelle missioni umanitarie Capitano In certi momenti Il pensiero comune Sarebbe rivolto Verso la guerra Per cui Sì Per carità Senti sparare Senti i proiettili Che fischiano Quelle cose fanno una paura Chi mostra coraggio Secondo me Un po' Finge Io ho una paura Pazzesca Degli spari Però non è Non è legata Agli spari Ai botti Alle bombe Che Che magari ho visto Lì al confine E' stato Nella discarica La discarica Che è un posto Che annulla La discarica Quale in particolare? Di Dandora In Sempre nella tua prima esperienza No quello in In Kenya Ah in Kenya scusami Lì Quella discarica è enorme Sono 12 ettari È gigantesca Non l'ho mai vista tutta Ci siamo entrati diverse volte Alla ricerca di bambini Tirando fuori diversi bambini Perché loro vivono lì Perché loro vivono lì Un po' Molti sono orfani Molti sono sotto la soglia Della super povertà E vivono lì Perché possono raccogliere Vetro e plastica E rivenderla Poi all'ingrosso Per farsi qualche scellino E riuscire a mangiare E a comprare spesso Anche colla E quant'altro Per Per la droga Per la droga E E moltissimi dei nostri bambini Vengono da lì L'ultimo che abbiamo tirato fuori Si chiama Joseph L'abbiamo tirato fuori A marzo Di quest'anno L'abbiamo trovato Allo stremo C'è questa foto Che ha fatto Paola Che è pazzesca Di lui Con il suo sacchettino in mano Con dentro la spazzatura Completamente disidratato Con lo stomaco gonfio Perché era lì da giorni E a marzo lì è estate Quindi picchiava In un modo pazzesco E E Quelle sono Paradossalmente Molto più della guerra Molto Lì c'è silenzio La discarica è zitta Senti solo le ruspe E le persone spesso Che conversano Però ti Se la guerra ti fa paura Il silenzio a volte Fa molto più rumore Devastante Del resto Se la guerra fa pum E ti viene tutta L'adrenalina del pum Lì c'è E non c'è nulla Ne parlavamo con Yaki Che è stato con me Due volte Lui è venuto in discarica Ti annulla Annulla tutto Annulla anche le prospettive Annulla la musica Annulla i sentimenti È una roba Non so neanche come descrive Ti mangia Quindi quella forse È una delle cose Che più mi ha Portato giù Mi ha segnato Assolutamente sì E comunque è molto forte Che tu adesso riesca Appunto anche a coinvolgere Altre persone In questo tipo di esperienze Magari già chi lo faceva Quest'estate Oltre a Yaki Hai beccato anche Tommy Marino Adela Giusta Siamo tutti amici Ed è bello vedere Che poi ci si contamina Anche nelle cose Anche nelle cose belle Poi Tommy in realtà Ha tutto un suo progetto Molto figo Che sta portando avanti Da tanti anni Proprio per far giocare A basket lì Perché a volte Qual è la cosa Che ti sei reso conto Essere più Una possibilità di salvezza Per chi è lì Lui ad esempio Usa lo sport Tu usi la musica Ma in realtà Una passione Sì sì Dare delle possibilità Perché Quando noi Con Yaki appunto Abbiamo portato gli scacchi Per la prima volta E gli abbiamo fatti giocare a scacchi Non sapevano Cosa fosse I bambini E quindi Dare lo switch in più Per poter Magari ci sono dei geni Della musica Dei geni dello sport Portatissimi Ma che non possono scoprirlo Certo non lo sanno Il principio Anche di portare Un pianoforte in Ruanda E di lasciarlo poi lì E perché dei ragazzi Lo stanno suonando Quel pianoforte E Un bambino che gioca a scacchi Anche se Molti mi chiedono E ci chiedono Ma perché Cosa sei Quelli non mangiano Alcune volte i bambini Non hanno due pasti al giorno Non bevono E tu porti gli scacchi Sì Un bambino che gioca a scacchi È un bambino che gioca a scacchi Un bambino che impara A giocare a basket È un bambino che si prende Una palla fatta di stracci Cerca di lanciarle in un cestino Quella cosa lì è un'alternativa Un pensiero Un sto fuori dalla strada Perché gioco con quello E gioca Il gioco è formativo Il gioco è unione Il gioco è infanzia Restituire il diritto all'infanzia Vuol dire questo cavolo Vuol dire Darti un gioco Che sia uno sport La musica Una canzone da canticchiare Degli scacchi da costruirti Con la spazzatura Il gioco è l'infanzia L'infanzia senza Il gioco è negata Sì sì Il gioco a volte è molto utile Anche da grandi Ma quello è tutto Un altro discorso Una delle cose che più Mi ha colpito Quando ho fatto questo tipo Di esperienze in Ruanda Sono stato due volte E quando poi torni qui Ci sono delle cose Che subito ti appaiono Come grandi contraddizioni O altro C'è qualcosa che ti fa Tra virgolette Incazzare Quando torni Dopo una tua missione L'inconsapevolezza Ma guarda Molti pensano che Quando gli operatori umanitari Tornano dalle missioni Oppure escono dagli ospedali Si sentano immensamente fortunati Come va bene la vita È ovvio È scontato in tutti noi No Siamo fortunati Cioè Chi non lo ammette Non ha fatto un passo importante Non vive nello stesso mondo A me quello che fa più male Ed è il motivo per cui io Adoro Divulgare Sui social Il più possibile È il fatto che ci sia tantissima inconsapevolezza E ne ho tanta anch'io dentro Io ho tantissime cose Che ancora non conosco E che voglio scoprire E l'andare in missione O l'andare negli ospedali Farmi raccontare dei bambini Le sensazioni che si provano A vivere Determinate cose Che non ho vissuto Ti permettono di essere più consapevole La voglia di ricercare È una cosa che muove Tantissimo E come parte Adesso per chi Neanche io lo so in realtà Come lascio una missione umanitaria Quali sono gli step Cosa si fa A chi viene l'idea Come funziona Ma a chi viene l'idea È secondario Nel senso che È una proposta Che viene da qualcuno Tutto nasce Ne parlavamo con Dennis Perché abbiamo questo macro progetto di vita Prima si individua l'obiettivo finale Dove vuoi arrivare E da lì poi ci sono tutti gli step Che sono un po' nascosti E trova i budget Trova i soldi Perché senza i soldi Non muovi niente E dai soldi Trova le persone Che vogliono partecipare Ed è una cosa che va poi Di pari basso Una volta che trovi il team E i soldi Perfetto Cominciamo col pratico Documenti da fare Cose da firmare Persone da coinvolgere Istituzioni da avvisare E tutto quello lì È un percorso Che è sempre diverso Costruire un asilo Non vuol dire costruire un centro polifunzionale Non vuol dire portare un pianoforte in Ruanda E la cosa che io ci tengo di più a dire Punto fermo Che nessuno è superiore a nessuno Dentro un contesto umanitario Né per notorietà Quello è solo un megafono di comunicazione Né per competenze Ognuno può dare un apporto fondamentale Io senza tutto il team che c'è intorno A una mano per un sorriso A Ocapia Non vado da nessuna parte Non bastano dei numeri Non basta qualche missioncina fatta Non ho abbastanza esperienza E inoltre conta tanto Conoscere il territorio Dove vai a fare Fondamentale Perché è insomma So di progetti magari sbagliati Proprio perché tu magari Vai a fare Non mi ricordo se questo esempio Me l'avevi fatto tu Dennis Del pozzo Me l'avevi fatto tu Pensa a te come mi è rimasto impresso No? Prova a spiegarlo tu Praticamente Questo è un esempio abbastanza classico Tempo fa Si individuava una situazione Per cui delle donne Dovevano fare chilometri e chilometri Ogni giorno Per andare a raccogliere l'acqua E quindi Degli operatori umanitari Arrivarono e costruirono Un pozzo attaccato al villaggio Poco tempo dopo Il pozzo venne distrutto Nessuno capì da chi E l'avevano distrutto Le donne E ci si chiede Ma come Ti ho messo l'acqua di fianco a casa? Il percorso che facevano le donne Per andare a raccogliere l'acqua Era fondamentale Era una via di salvezza Probabilmente dai soprusi Che c'erano in casa Dai soprusi del villaggio Era un modo per parlare Era una strada per comunicare Faticosissima Devastante ogni giorno I piedi si consumano Però Stavano insieme E quindi aveva un senso logico Nella società E non capire il contesto culturale Spesso porta a fare errori E soprattutto Oltre a conoscere La Come dire Il luogo Bisogna essere conosciuti Dentro il luogo Per quello Senza Tutto quello che hanno fatto Dennis Per Ocapia Paola Per una mano per un sorriso Senza tutto il loro passato Di anni e anni In quei luoghi Non agisci Certo Perché loro sono conosciuti Ah quello è quello di Ocapia Il rispetto La credibilità Già tutto fatto È come se avessi la strada spianata Per quello loro sono degli esempi Incredibili da seguire Hanno fatto tanto prima Beh questo è fondamentale Tu usi i social Appunto abbiamo detto tante volte Per raccontare questo Inoltre Insomma sono diversi anche gli ambiti Con cui stai Collaborando Eccetera Nessuno ti ha mai accusato Ad oggi Che numeri hai adesso Sono grossi Su tiktok Forse quello dove sei seguito di più Sì Poi cosa c'è Youtube Instagram Sì tiktok è quello più Più grosso Ma perché è quello un pochino più ludico E anche quello che va però A raggiungere anche un target Giovane Che può essere veramente Poi ispirato Da tutto quello che fai Anche per la consapevolezza Esatto Ma c'è qualcuno Che ti ha mai accusato Di spettacolarizzare questa cosa? Tanto Ma Va bene così Tanto ovviamente Anche l'accusa di Lo fai solo per i social Lo fai solo per mostrarti Tolto il fatto che lo facevo da prima Ma poi In generale Non importa Io rischio tantissimo Di peccare di presunzione Quando parlo Di Io sono quello bravo Sono il figo Che va in missione Non è quello che c'è dietro E per quello io ribadisco sempre Io non sono diverso E migliore Di nessun altro volontario E missionario Che parte Mai Ho semplicemente Un megafono più grande Ma L'ho costruito Facendo video divertenti Certo Quindi non è un È un po' la sindrome dell'impostore Che ti accenna al pranzo Ho molta paura di questa cosa E quando le persone Mi accusano Io rivedo tutta la mia comunicazione Cosa ho sbagliato Cosa ho detto di più Cosa sembra che io abbia millantato Che non è vero E ho molta paura Perché già ho la sindrome dell'impostore Per conto mio Però insomma Questo Sei stato come Insignito Insignito italiano Ti hanno dato Comunque ti hanno dato Diversi riconoscimenti Sei ambasciatore Ambasciatore di Torino Ambasciatore di Torino Questa è la cosa che fa più Devo prendere l'espiro Più di dirlo No, però è molto No, per carità È importante È fighissimo Ma anche l'anno scorso Mi hanno conferito Il premio per la pace Certo Il premio La Pira per la pace Io ci ho messo sei mesi A dirlo alle persone Ma anche adesso A dirlo a te Qua davanti al microfono Mamma mia È difficilissimo Perché non me lo merito Quel premio Li hanno dato A Ritalia di Montalcini A Madre Teresa di Calcutta Io? No Io ho 23 anni Non ho fatto ancora niente Di quello che voglio fare Sì Poi mi sono reso conto Ho fatto un pochino pace Con questa cosa Che questi riconoscimenti Vanno bene anche come promesse Nel senso che Non me lo merito ancora Ci sono Denlis Se lo merita di più di me Paola Se lo merita di più di me Mille milioni Di volontari Di operatori umanitari Che hanno lavorato più tempo di me Se lo meritano di più Per quello che hanno fatto Nel concreto A me l'hanno dato Per la divulgazione Va bene così Lo accetto Riesco a deglutirlo Non è scontato Cioè nel senso Perché poi uno può fare Anche le cose più belle del mondo Ma se puoi riesci a raccontarle bene A farle arrivare a tanta gente Vale forse anche di più Nel senso vale tanto Infatti Sono riuscito ad accettarlo Grazie a questo Però È un po' come se ci fossero due linee La prima devo accettarla io Ok va bene L'accetto come Però io prometto Che questo premio qui Lo faccio Continuerò a farlo Fino alla fine Perché amo i bambini E perché amo divulgare questa cosa L'altra è Le persone devono accettarlo Perché Pietro Morello Ha un premio per la pace Perché se lo merita E Tanto faccio difficoltà io Ad accettarla Quanto non riesco a dare una giustificazione Forse non me lo merito Forse non c'è un motivo Però Va bene così Se serve a comunicare di più Va bene così Certo Sì Poi anche darti il premio A volte è anche una Un incentivo Un incentivo a te E anche una risonanza al premio Perché poi appunto Essendo un nome conosciuto A maggior ragione Più persone scopriranno Che c'è Che esiste questa cosa Quindi Sicuramente secondo me È molto È molto vincente Una domanda invece È una curiosità Sì Poi sentiti libero Di rispondermi o meno Ma sono molto curioso Di capire appunto Facendo tutte queste cose Sostanzialmente Tutte cose Socialmente utili E che in tanti casi Insomma ci si va a smenare Anche dei soldi Non ci si guadagna Dei soldi Vivi grazie a cosa? Economicamente parlando Di social Assolutamente Ok Sempre con Tutta l'etica Che riesco a mantenere Facendo un po' Dei sacrifici Ma io non ho Molto interesse Nei soldi Cioè Mi pagano l'affitto Quindi Devo guadagnare No Ragazzi Adesso non c'è nulla Di brutto E anzi Sono fondamentali Per vivere E per poter anche Fare quello che fai Ma poi sono molto arrabbiato Con le persone Che demonizzano i soldi No io non sono ricco Per carità Io guadagno dai social Guadagno abbastanza bene Dai social Assolutamente Per carità Guadagno magari Meno di qualcun altro Solo perché Faccio delle mie pippe mentali Delle mie scelte Però guadagno Assolutamente benissimo Dai social E questa cosa Guadagnare dai social Si intende Collaborazioni Con brand Che però Sono in linea Con quello che fai tu Che quindi Sono cose che di solito Già succedono anche Con le associazioni Assolutamente In generale Quindi non è quel Direttamente dai social Tipo visualizzazioni Quella roba lì YouTube principalmente TikTok Per quanto le visualizzazioni Siano molto alte Si parla di miliardi Di visualizzazioni Comunque il guadagno È molto basso Ok Quindi principalmente La monetizzazione di YouTube È già un buon fattore Le collaborazioni Che prendono Sia Instagram Che YouTube Che quindi Sfruttano la visibilità Per fare pubblicità Si Sono quelle che mi danno Assolutamente più da vivere Non ho nessuna vergogna Nel dirlo Ok E mi danno abbastanza da vivere Da dire che Io non guadagno nulla Dalle missioni umanitarie Non guadagno nulla Dagli ospedali E Continuerò a non guadagnare nulla È un principio per cui Se riesco a mantenermi Al di fuori Tutto quello che può essere Per l'associazione Per i bambini È per quello Ok E adesso sono assolutamente Una condizione di vita Che mi permette di farlo C'è qualche proposta indecente Che ti hanno fatto E cui hai detto no Senza fare nomi magari Mai il concetto Principalmente per ignoranza Nel senso che sì Ci sono un sacco di aziende Che non sono per niente In linea con me Ma parliamo di aziende Che veramente Fanno il contrario Di quello che fai tu Assolutamente E che scrivono la mail Abbiamo letto il tuo profilo È perfettamente in linea Con la nostra azienda Vorremmo che collaborare Vorremmo collaborare con te Eh no Perché adesso è un momento In cui sta accadendo Ovviamente un casino Con tutto il discorso Dell'ecologia Esatto Dove molte aziende Fanno quello che viene chiamato Greenwashing Di cui si è parlato tanto Questa estate Però dove insomma Cercano in qualche modo Di ripulirsi Tra virgolette La coscienza Sta agganciandosi a persone O a progetti Che in qualche modo Hanno una loro Etica No? In questo caso Credo che succeda anche Con profili come il tuo Sì ma per me vorrebbe dire Crocifiggermi Praticamente A parte il fatto che Molte aziende Proprio non mi piacciono E non lo farei Perché non mi piacciono Non condivido i valori E anche se Di facciata Un'azienda mi piace Ne parlavamo prima Io ho grandissima passione Per i motori E devo sempre fare Un po' attenzione Perché comunque Il motore di base È qualcosa che inquina tantissimo E quindi È sempre un po' Quel bilanciamento Tra la mia passione E quello che poi Realmente È il bene del pianeta Il bene dell'ambiente Però vabbè Il motore Dici la mia passione È la guerra Esatto Capito Questo è un po' più grave Però il motore Tutto sommato Chiaro Che va con l'inquinamento Anche perché Ti piacciono dei bei motori Mi sembra davvero Esatto Quindi diventa un po' Diventa sicuramente Complicato Da quel punto di vista Però insomma Si può trovare Un equilibrio Da quel punto di vista Si può Si può assolutamente Si può assolutamente trovare C'è qualcuno A cui ti ispiri? Tante persone Tante figure In diversi campi Se in campo musicale Che in campo poi umanitario In campo umanitario Sparerei un po' Sulla croce rossa Nel dirti Gino strada Infatti anche io pensavo Con il mio grandissimo Amore nei suoi confronti Nei confronti della sua vita Amo i suoi libri E in generale Ciò che ha costruito Che è perfettamente in linea Con ciò che io vorrei costruire In futuro In campo umanitario Comunque quella vorrà essere La mia vita Tu non sogni di avere una tua associazione Di avere una tua Non sogno sull'associazione In particolare Sogno sul progetto Io ho un progetto di vita Legato al mondo Dei bambini soldato E della guerra Nei confronti dell'infanzia Che voglio realizzare Voglio fortemente Voglio Hai anche un concetto Hai anche un'idea Molto particolare Sulla guerra Sì sì La guerra non si combatte Esattamente come sono Abbastanza saldo Nel dire La felicità È una scelta Che va condivisa La guerra Io non posso vincere la guerra E continuare a parlarne E a dire La guerra fa schifo La guerra è una merda La guerra va annichilita Ma certo È ovvio che lo penso Ma continuare a parlare È un'enorme perdita di tempo E se non puoi combattere la guerra Ripara quello che fa Ovunque passi la guerra Lascia delle ferite Vai a cucire quelle ferite Quello Vai a prendere A capire come togliere i bambini Dalla guerra A ristabilire un diritto all'infanzia E quindi a riportarli A una vita che poi sarà Assistenziale verso gli altri Per forza di cose Perché l'hanno vissuta Allora Quello secondo me È combattere la guerra Vivere ciò che passa dopo E cercare di riparare Tutto il riparabile Però siamo Cioè la fonte Non si riuscirà mai A Non mi posso permettere Di dire se non si riuscirà mai Perché non si sa Soprattutto sono troppo Piccolo Di vita Per saperlo Il mio pensiero di oggi 2022 È No La guerra non si vince Oggi Non si vince Ma non è Non è un pensiero catastrofista Non sono Anzi io sono Il primo grandissimo sognatore Non è un La guerra non si vince E allora vabbè Va bene così No La guerra non si vince E allora si fa il triplo Perché se la guerra non si vince Devi riparare tutto Quello che è successo A causa della guerra Infanzie distrutte Persone ferite Mamme che non partoriscono Tutto va fatto Bisogna lavorare Giorno e notte Per mille anni Proprio perché la guerra Ad oggi non si vince Come hai vissuto il conflitto Quello che In Ucraina Mi è dispiaciuto No Aspetta Ma è un po' più complicato di così Ha avuto una risonanza mediatica enorme È stata una guerra quasi social Perché è stata Ovunque No Sì sì Io non ho partecipato Non sono andato in missione in Ucraina Per quanto Volessi farlo E comunque io i contatti lì Sarei andato subito Ero già stato Ero già stato Quindi sarebbe stato Facile Tra virgolette Arrivare lì come aiuto umanitario Mi trovavo in Kenya In quel momento E ho dovuto fare una scelta Molto complicata Ovvero C'è una guerra in corso Devo andare No No perché sono da altri bambini No perché sono con dei bambini Con cui sto costruendo un percorso Ormai da anni E a cui sto insegnando Delle cose E non c'è un bambino Che merita più di un altro Non c'è un bambino Che può Essere lasciato andare Per andare da qualcun altro Anche perché Uno dei grandi dibattiti Durante quel periodo Era proprio quello Cioè adesso questa guerra Siamo tutti concentrati su quello Però le guerre purtroppo ci sono Ovunque Soprattutto sai In Congo La guerra c'è da vent'anni In Siria la guerra c'è da decenni Cioè Dimenticarsi le altre guerre In funzione del fatto Che l'Ucraina è più vicino a noi È sbagliato Sì più che altro Più che vicina Geograficamente Proprio vicina culturalmente Tu vedevi quelle immagini Schiaffate Che era casa tua Erano dei tuoi amici Ed è il pericolo più grande In assoluto Cioè allora la guerra in Congo Non conta perché tanto Sono lontani Sono diversi da noi No Non esiste Ed è di nuovo Io sono vicinissimo Alla situazione che è appena successa E comunque ho lavorato A distanza In funzione di quella Nelle raccolte fondi Nella distribuzione dei beni Con il Sermic di Torino Che era appunto L'ente con cui sono partito Nella prima missione umanitaria Eravamo in costante contatto Con i missionari Che si trovavano in quel momento Nella zona di Lviv Nella zona di Kiev Ci chiamavamo ogni giorno Dal Kenya Per sapere come va C'è bisogno C'è un sovrabisogno Perché se fosse successo Qualcosa di estremamente grave Allora è ovvio Che c'è bisogno di energie Che hanno un minimo di esperienza Per andare lì E sarei partito Però C'era talmente tanto afflusso Talmente tanti volontari Talmente tanti aiuti Che si è subito Livellata la situazione È un campo di guerra Parlarne Certo Perché Beh sì Chiunque può avere un'idea Perché soprattutto rischi Di essere sempre frainteso Diciamo che la mia idea è Tutti i bambini Meritano di essere aiutati Allo stesso modo Anche se c'è un'emergenza Che esplode vicino a noi Culturalmente Mi trovavo in Kenya Sono rimasto in Kenya Penso che ogni conflitto Sia una merda La guerra è una montagna di merda Ovunque La guerra fa schifo Ovunque E quindi se mi chiedi Cosa penso del conflitto in Ucraina La guerra è una merda Sempre Quello è incredibile E a proposito Tornando a Ruanda Una delle cose che mi colpì Ovviamente di più Di quella Di quell'esperienza Quando siamo andati Dennis come si chiamava La chiesa Dove aveva A Niamata La chiesa di Niamata Dove c'è il genocidio Dove c'è il ricordo del genocidio Sì sì E mi ha colpito molto Come Tra l'altro il film Hotel Ruanda Io non l'avevo voluto guardare Fino a che hai detto Quando rientrerò Lo guarderò Ed effettivamente Anche quello Fa un certo effetto Perché in Ruanda C'è stato un genocidio Ovviamente molto importante In tempi recenti Nel 94 Ed è stato impressionante Come on off Quindi quando poi è finito tutto In realtà le stesse persone Che magari il giorno prima Avevano ammazzato I tuoi familiari Tu le vedevi in giro E tu andavi in giro Tutto così E quindi mi ha dato l'idea Di un paese Non era il classico Africa Quando vai in vacanza A Zanzibar E anche se vai nel villaggetto A fianco Tutti i bambini sorridono Ma anzi Mi ha sempre dato l'impressione Che ci sia Una certa tristezza E soprattutto chi magari Alla nostra età Io sono un pochino più grande Però ha vissuto poi Quella cosa lì Era anche un tema Di cui ricordo Non è che si potesse parlare Cioè se qualcuno Apriva il discorso Allora si parlava E con che tipo di sensibilità Ti devi approcciare A un popolo Che non conosci Allora Cioè se tu arrivi così Mega esuberante No? Vieni subito preso bene O devi entrare in punta Di più Allora la base di principio Che io ho imparato sbagliando Perché ovviamente all'inizio Ero il coglioncello E io cambio il mondo Ce la posso fare Sono bello e figo No, non esiste Il primo principio è l'ascolto Ma questo non In una zona sensibile come Ruanda Anche in ospedale Certo Tu non sai niente Di quello che vive qualcuno Non puoi saperlo Quindi ascoltare Lasciare parlare E ascoltando capisci anche tutti i limiti Lo vedi con il linguaggio del corpo Con un po' di empatia Quando arrivi al tema genocidio Certo Ti fermi E allora lì capisci che è un tema da trattare In un determinato modo E anche nell'agire Perché per esempio in Ruanda Bisogna ancora agire in funzione del genocidio Quando ci sono dei bambini Nello slam che vivono in strada Allora il progetto deve essere Togliere i bambini dalla strada Non togliere i bambini dalla strada Perché c'è stato il genocidio Quello è una cosa di cui parlare Una cosa da ricordare Una cosa da ricordare Per non Annotire la memoria E per non fare riaccadere Ma I progetti esulano Dal passato Spesso Ricordandolo Ah questo è interessante Credo che Dennis sia d'accordo con me Nel dire I progetti esulano dal passato Perché tanto il passato non lo cambi Ed è un po' il classico discorso Del passato non lo cambi Il futuro lo puoi influenzare Ma il presente è la cosa più importante Che hai tra le mani Certo Fai Fai Vivi Respirati quelle cose Che sono Che sono poi i principi Tanta roba Invece i capelli così li hai sempre avuti Ci sono nato Sei nato No I capelli così li ho fatti Tre anni fa Ormai è il tuo simbolo Ormai è il mio simbolo E sono legato Sono ingabbiato dai capelli bianchi Sembra uno degli X-Men Non mi ricordo chi Mi dico quello che sembra Jack Frost Jack Frost No I capelli bianchi Figurati che li feci a Natale Di tre anni fa Perdendo una scommessa Col mio migliore amico Davvero Una stronzata apocalittica E poi è diventata Con un tuo segno di distensivo Ci ho costruito tutto il personaggio Certo Alla fine sai Se scrolli i tiktok Il motivo per cui le persone Possono anche fermarsi Uno si ferma e vede quello Conosciuto E poi ai bambini piacciono un sacco Sì Ma i bambini fanno piegare da ridere I capelli bianchi Allora ho troppi motivi per tenerli Certo Beh I bambini guardano i tuoi video Dipende dall'età Sì Tendenzialmente io lavoro in realtà Con i 6-12 Che sono un po' piccolini Magari gli fanno vedere i genitori E per fortuna Non usufruiscono dei social I bambini così piccoli Certo Meno male Continuino così E quindi no Alcuni bambini un po' più grandicelli Sì Ma tendenzialmente il mio pubblico Comunque Adesso A parte tiktok È un pochino più grande Certo Ed è un po' più invitato Magari a replicare Piuttosto che semplicemente A usufruire E i loro genitori Negli ospedali Come ti vivono? Allora io ho bellissimi rapporti Con i genitori Bellissimi Ci sentiamo spesso Con molti genitori Con cui stringiamo un rapporto Capita che io conosca un bambino Per una volta sola Vado sabato mattina Musica tutti insieme Me ne vado Non ci vediamo mai più Capita spesso La maggior parte dei bambini E dei genitori Sono così Con altri invece Che hanno magari I ricoveri più lunghi O che sono nel reparto Dei bambini terminali Per cui Assisti e continui Con i genitori Stringiamo un bellissimo rapporto Sempre con quella linea Comunque di Non possiamo diventare amici Perché altrimenti È tutto più complicato Per me Per loro Per i bambini È sempre un rapporto professionale Però è un'assistenza Anche nei loro confronti Quando i bambini Stanno con me I genitori fanno Ma non perché io sia bravo Non è quello È perché me li tengo Allora siete anche un po' sollevati Io tutte le volte Che trovo problematiche Di questo genere Poi adesso Essendo anche diventato genitore Penso al genitore Anche dico Cazzo Che peso Cioè che roba incredibile E quindi anche solo i bambini Che stanno tre ore con me In aula musica A fare musica E la mamma che va a prendersi un caffè È un piccolo passo Appunto io non posso cambiare la vita di nessuno Però se può essere un momento di gioia Io mi sento di aver vinto Tutte le mie battaglie Prima mi raccontavi di aver anche Insomma assistito un bambino Una bambina Fino quasi al punto Capitano anche queste situazioni E sono un po' Tra virgolette Da accettare Anche perché È un aiuto generico Quello che puoi dare Ma anche solo il parlarne Raccontarsi Confrontarsi La morte è un tema A cui tutti Cioè in Italia In modo particolare È un tabù Tutti non ne vogliono parlare Tutti hanno paura Ad affrontarla Perché? Perché la morte fa bello schifo Come fai a conviverci Tra l'altro Con la morte dell'infanzia Cioè quindi magari Più volte vedere dei bambini Con cui tu hai fatto delle cose Che poi purtroppo Non ce la fanno La morte è È come la guerra È una roba che non puoi Bloccare Forse anche di più ovviamente Però è una conseguenza Ed è un Uno degli aspetti Più terribili Da dover affrontare Perché la morte è lì Arriva Magari arriva troppo presto Magari arriva nel modo Più sbagliato Il rapporto Il rapporto che ho io Con la morte È giunto Ad essere così E si basa su tutto il tempo Che c'è prima Quando c'è una consapevolezza Che potrebbe accadere Può accadere Può accadere se vai in guerra Ma può accadere anche a me Può accadere anche a Dennis Può accadere quando ti muovi In determinati modi Allora Focalizzati su quello Che c'è prima Sai quanto bella Può essere la vita prima Cacchio Sai quanto tu puoi Metterti a cantare Con Samuel E canti per quattro giorni I quattro giorni prima E canti E guardi le moto Che passano veloci E dici Minchia guarda quella moto Come corre E quei momenti lì Di scambio Di gioia Vuol dire Quanto puoi trarre di positivo Dal momento presente La morte è qualcosa di futuro Diventa presente E quando è ancora qualcosa di futuro Tu puoi avere una gioia Pazzesca nella vita Basta dirselo Basta sceglierlo Basta essere consapevoli Che la felicità C'è Allora Quando riesci a focalizzarti sul prima La morte diventa solo Un ostacolo da superare Difficilissimo Per i genitori Immensamente più difficile Che per me ovviamente Però si può superare Ho visto genitori Ispirati talmente tanto Dalla gioia Che hanno vissuto Nella loro vita Insieme ai loro figli Che dopo la morte I loro figli Hanno aperto associazioni Hanno creato progetti Hanno fatto raccolte Hanno incluso Nuovi giovani Nella loro vita Con la prospettiva Di ricominciare Con un esempio Allora far sì che La vita felice Trascorsa prima Sia un esempio Ne parlavamo con i genitori Di una bambina Che si chiama Gilda Gilda fino all'ultimo Ha tirato un sorriso Che è inarrivabile Un sorriso che io Ambisco ad avere Che io guardo Dal basso in alto Quel sorriso lì È una delle fonti Di ispirazioni più fighe Della mia vita È ovvio che è tristissimo Che Gilda non ci sia più È ovvio che è tristissimo Fa male È distruttivo Io credo che per un genitore Non ci sia niente di peggio Che sopravvivere ai figli Però loro Al funerale di Gilda Il papà ha detto Una cosa pazzesca E la mamma Di conseguenza Sono due persone splendide Con cui abbiamo Un bellissimo rapporto Al funerale di Gilda Il papà ha detto Questo è una fine Molto difficile Però il principio Che c'era dietro Quella bambina Dietro al Al suo essere felice Al suo cantare Fino alla fine Al suo volere scoprire Fino alla fine È la cosa che muove di più Tutti noi Presenti in questo posto E l'ha detto un genitore Se lo dice un genitore Vuol dire che è assolutamente vero Pietro io ti ringrazio Un casino Per essere passato di qui Ti auguro veramente il meglio Spero che vada anche in porto Una cosa che stiamo pensando Sì sì Mi farebbe un sacco piacere Ma ci rivediamo Ci rivediamo senza altro Mi insegni un po' A suonare il pianoforte Quando vuoi tutto quello vuoi Io voglio fare il figo Che arriva in aeroporto Dove ci sono il pianoforte E suoni quella cosa giusta E a un certo punto mi siedo E si cazzo Ma la musica è quella Ma che cazzo è questa Ci sono io che suono il pianoforte Allora ci mettiamo a fare le canzoni A chiappa gente Tu che musica ascolti Ecco l'ultima cosa Mi sono dimenticato Sai che dipende tutto Da quello che ho intorno Se sono triste Ti metti la musica adatta Se sei felice Ma come ti è salito il torinese Hai visto? Oh boy a faus Ciao Pietro Grazie mille a te